Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, sono Silvia. Oggi ti propongo una piccola sequenza che ti propongo di fare durante la tua giornata lavorativa e che ti permetta di ritrovare una postura corretta, più consapevole, di muovere tutto il corpo e di prenderti proprio una piccola pausa. Il mio suggerimento potrebbe essere quello di impostare un paio di svegli durante la giornata proprio per ricordarti di fare questa piccola sequenza e per fare una pausa che ti permetta di tornare alla tua attività lavorativa in modo veramente più fresco e riposato. Oggi ti voglio parlare di FlexiSpot, un'azienda che realizza scrivanie dall'altezza regolabile che ti permettono quindi di lavorare non solo in posizione seduta ma anche in piedi. Puoi facilmente programmare le posizioni preferite in base alla tua altezza, in base alla comodità e passare da un'altezza all'altra con il semplice tocco di un dito. Le scrivanie FlexiSpot sono lavorate con materiali di alta qualità e hanno un design minimale molto pulito che ti permetta di adattarle ad qualsiasi tipo di ambiente. Quando scegli la tua scrivania puoi scegliere il colore della base e il materiale e la forma del piano di appoggio. Dal 28 agosto, quindi da oggi fino al primo settembre, sul sito di FlexiSpot trovi una serie di sconti che vanno fino a 300 euro sull'acquisto di una scrivania. Per i primi 10 ordini piazzati entro le 11 del giorno 28 agosto del primo settembre partecipi all'estrazione di una scrivania gratuita, quindi potresti ricevere un rimborso completo sull'acquisto della tua scrivania e se ti iscrivi al sito FlexiSpot partecipi a un'altra estrazione sulla scrivania della serie Q8. Trovi comunque i link nella descrizione di questo video in modo che tu possa esplorare il sito e capire qual è la scrivania che può essere adatta a te. Io direi che siamo pronti per cominciare, quindi prepariamo il nostro spazio e alleniamoci insieme. Ti basta semplicemente portare la tua sedia leggermente più indietro rispetto alla tua scrivania, accertati solo di avere uno spazio che ti permetta di muovere le braccia in questa direzione senza colpire la tua scrivania. Siediti sul bordo della tua sedia, quindi sarebbe meglio utilizzare una sedia ovviamente che non ha le rotelle, le gambe sono leggermente separate, i piedi ben appoggiati e cominciamo a raddrizzare la nostra colonna, quindi rendiamoci consapevoli della nostra posizione, della nostra posizione posturale. Ischi appoggiati, quindi puoi muoverti leggermente sulla sedia per cercare l'appoggio delle ossa del bacino. Immagina di avere quel filo che ti tira dal centro della testa che ti permette di riallineare la testa sopra le spalle, le spalle sopra le anche. Le mani sono appoggiate sulle gambe e cominciamo a fare dei piccoli movimenti di rotazione delle spalle indietro, morbidi, cerchiamo di sciogliere un pochino le tensioni che eventualmente si sono accumulate sulla zona del collo e delle spalle, respira liberamente, facciamo ancora quattro di questi movimenti sempre andando indietro, quattro, ancora tre, ancora due, ancora uno. Ora lascia le braccia giù vicino alla tua sedia e comincia a portare un braccio verso l'alto e andiamo a sforbiciare le braccia e sforbicia, quindi fai partire il movimento dalla tua spalla, le braccia sono lunghe, non forzare soprattutto sul braccio che sale verso la testa, cerca di ascoltare il tuo corpo e percepire qual è il range di movimento possibile in questo momento per le tue braccia e le tue spalle. Facciamo ancora quattro movimenti anche qui, avanti, ancora tre, ancora due, ancora uno. Ora portiamo le braccia in questa posizione, siamo a 90 gradi, quindi abbiamo i gomiti in linea con le spalle, i palmi delle mani che guardano verso di noi, spalle lontane dalle orecchie, gomiti alti, quindi senti l'attivazione delle tue braccia e da qui inspira ed espira, apri i gomiti mantenendo le angoli di 90 gradi e poi ritorna. Questo movimento ci permette di lavorare la muscolatura tra le scapole, che è una muscolatura di sostegno della colonna, che ci permetta di migliorare la postura, quindi di magari limitare la curva della nostra colonna a livello cifotico, a livello dorsale. Apri di nuovo, ultimi quattro movimenti anche qui, respira liberamente, quattro, avanti ancora, tre, avanti ancora gli ultimi due, quindi percepisci veramente che il movimento parte dalle tue scapole, ancora uno, ritorna, sciogli un secondo le tue braccia, metti le mani dietro la nuca, gomiti non troppo aperti, in una sorta di V, e qui inspira, prepara ed espira, andiamo a ruotare verso destra, fuori l'aria, inspira, ritorna, sempre verso destra, fuori l'aria, due, inspira, ritorna, e avanti fuori l'aria, tre, mentre ruoti mantieni l'allungo della tua colonna, ancora fuori l'aria, quattro, e cerca di aumentare ogni volta di un millimetro questa rotazione, ancora uno da questa parte, ritorna, andiamo verso sinistra, fuori l'aria, svita, inspira, ritorna, fuori l'aria, ruota, due, inspira, ritorna al centro, fuori l'aria, tre, inspira, avanti, ruota, quattro, quindi percepisci che ti stai allungando costantemente dal centro della testa, ancora uno, cinque, ritorna al centro, ora andiamo a fare flessione laterale, quindi fletti la colonna lateralmente verso la tua destra, allunga il braccio destro come se volessi toccare il pavimento, scendi, quindi spalla verso il fianco, ritorna al centro, andiamo sempre verso destra, fuori l'aria, due, gli ischi rimangono assolutamente appoggiati sulla sedia, quindi è il busto che si sposta, non è il fianco sinistro che si solleva dalla sedia, avanti ancora, fuori l'aria, tre, inspira, ritorna, gli ultimi due anche qui, fuori l'aria, quattro, inspira, ritorna, senti l'allungo sul fianco sinistro qui, cinque, e andiamo a fare tutto dalla parte opposta, quindi lascia che il braccio delicatamente si allunghi verso il pavimento, e poi ritorna al centro, fuori l'aria, due, piante dei piedi bene premute sul pavimento, avanti ancora tre, ischio destro che rimane sulla seduta, avanti quattro, e ritorna, avanti ancora cinque, ritorna e sciogli la posizione delle braccia, ora posizioniamo le mani in posizione di preghiera davanti al busto, avvicina magari leggermente i piedi alla tua sedia, e carichiamo verso la posizione in piedi facendo uno squat, quindi torneremo a sederci sulla nostra sedia, inspira, prepara, ed espira, sbilanciati in avanti, vieni su, stringi delicatamente i glutei, siediti indietro e torna con la schiena completamente dritta, sbilancia il peso in avanti, attiva le tue gambe, glutei attivi quando arrivi qui, scendi di nuovo e ritorna, spalle lontane dalle orecchie, nessuna tensione sulle spalle e sul collo, e delicatamente appoggiati sulla sedia, quindi fai attenzione a sederti in modo veramente molto fluido e controllato, respira, attiva, allunga, scendi e agli ultimi due così, avanti di nuovo, sali, scendi e ritorna, avanti ancora uno, sali, scendi e qui rilassa le tue braccia di nuovo. Ora togliamo la sedia in modo da poter lavorare una piccola sequenza invece con l'appoggio delle mani sulla scrivenia, quindi mettiti in piedi a una certa distanza, la schiena bene dritta, quindi il filo che ti tira dal centro della testa verso l'alto, le mani sono sulle cosce, quindi inspira qui ed espira, fletti tutta la corona, ma solo fino a portare le mani sulle ginocchia, quindi retroversione del bacino, lo sguardo verso il bacino stesso e ritorna con la schiena dritta, ancora fuori l'aria scendi, inspira, risali e avanti ancora fuori l'aria scendi e ritorna su, avanti, ogni volta che risali risenti quel filo che ti tira dal centro della testa verso l'alto, facciamo gli ultimi due, fuori l'aria e ritorna su, avanti ancora uno, scendi, ritorna e ora avvicinati alla tua scrivania e se possibile appoggia gli avambracci, quindi qui scarica bene le spalle, le gambe sono morbide, siamo in un inizio di squat, solleva la tua gamba destra, portala leggermente in avanti, il bacino è neutro, non andare in retroversione e stendi la gamba indietro, fuori l'aria, inspira, fuori l'aria 2, scarica bene le tue spalle, 3, la gamba di terra è piegata in modo da ricevere bene il carico e l'equilibrio, avanti ancora 5 e ritorna, fuori l'aria 6, ultimi due qui, avanti 7 e ritorna, 8, ritorna, appoggia il tuo piede destro, solleva la gamba sinistra, inspira e ripartiamo, fuori l'aria, gli addominali sono attivi, le spalle lontane dall'aria che puoi premere leggermente con le braccia sul piano della tua scrivania proprio per darti stabilità, 3 e ritorna, fuori l'aria 4 e ripiega, avanti 5, la schiena sempre neutra, avanti 6, dritta, ancora gli ultimi due, 7 e ritorna, avanti 8, ripiega, fermati qui un secondo se possibile e andiamo a fare quello che chiamiamo running, cioè una gamba stende l'altra piega, puoi tenere i piedi completamente appoggiati sul pavimento oppure sollevare il talone della gamba che sta piegando, vedi tu qual è la variante più adatta, che senti più migliore per il tuo corpo e permette alle tue anche di realizzare un piccolo twist, una piccola torsione proprio per sciogliere la zona del bacino e delle anche stesse, ancora per 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1, piega, curva la tua colonna e piano piano delicatamente ritorna con la schiena dritta, recuperiamo la nostra sedia per un'ultima sequenza invece di allunghi, quindi portati sempre a una piccola distanza dalla scrivania, sediti sempre vicino al bordo e andiamo a fare il 4 con la gamba destra, quindi caviglia destra su ginocchio sinistro, realizza il 4 in modo che gli ischi rimangano bene appoggiati senza forzare la rotazione verso l'esterno, l'importante è che la tua schiena sia dritta, già qui potresti sentire un allungo sul tuo gluteo destro, se vuoi aumentare l'allungo puoi proiettare il peso in avanti come se voleste affacciarti verso il piede sinistro, scendi e risali, quindi cerca di ascoltare il tuo corpo e di capire fino a dove è possibile andare proprio per realizzare questo allungo sul gluteo destro, facciamo ancora tre ripetizioni, schiena piatta, quindi non ci sono curve nella tua colonna in questo momento, ritorna, avanti ancora gli ultimi due, vedi ogni volta se è possibile scendere un millimetro in più senza forzare, facciamone ancora uno, scendi e ritorna, ora cavalla la gamba destra sulla sinistra e metti la mano sinistra sulla coscia destra, la mano destra vicino alla tua sedia e qui ci permettiamo di premere sulle nostre braccia per fare un pochino di torsione, mantenendo l'allungo della nostra colonna e lascia andare, quindi un pochino di pressione insieme alla tenuta addominale per andare a ruotare ed allungarti e facciamo di nuovo l'ultimo, ancora rotazione allunga e ritorna e facciamo tutto dall'altra parte, quindi piedi paralleli, caviglia sinistra su ginocchio destro, prenditi un attimo di tempo per realizzare il 4 prima di partire, ischi appoggiati, colonna bene dritta, inspira ed espira, ci andiamo ad affacciare verso il piede destro, scendi e poi ritorna, crea una progressione che ti permetta di scendere più in profondità nell'allungo che senti sul gluteo sinistro senza esagerare, tieni conto che le gambe e i glutei potrebbero essere diversi, quindi reagire in modo diverso a questo allungo che stiamo cercando di ottenere, ultimi due movimenti anche da questa parte, nessuna attenzione sul collo e sulle spalle, quindi veramente affacciati come se fosse un balcone per rivolgere lo sguardo verso il tuo piede destro, ritorna, cambiamo l'incrocio delle nostre gambe, mano destra sulle gambe e mano sinistra invece sulla sedia, andiamo a incrementare leggermente la torsione, usando le braccia una che spinge l'altro tira e ritorna al centro, ancora rotazione in allungo, quindi durante la rotazione c'è sempre un allungo dal centro della tua testa, ritorna, avanti ancora l'ultimo, ruota, ritorna verso il centro, sciogli e ruota un paio di volte le tue spalle e ci prendiamo solo un attimo per verificare la nostra posizione di allineamento tra le parti, vediamo se c'è un miglioramento rispetto alla posizione che abbiamo verificato all'inizio, quindi schiena bene dritta, ischi appoggiati, la testa sopra le spalle, le spalle con le anche, il supporto della nostra colonna, sentiamo il supporto senza rigidimento e cerchiamo di ripensare a questa posizione, di registrarla in modo da poterla ritrovare durante la nostra giornata. Bene, ottimo lavoro, grazie mille per essere stato con me durante questa sequenza, spero ti sia piaciuta, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia un like se il video ti è piaciuto e se non è ancora fatto iscriviti al canale, è totalmente gratuito, per rimanere aggiornato sulle prossime novità. Io ti mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video, a presto!